ah no ma è mai possibile che non sai tirare nemmeno una palla in un cestino ma lascia stare ora ti faccio vedere io come si fa e anche da queste cose che si vede se sei un vincente tirare la palla in un cestino è un'arte deve avere la mano leggera la palla deve cadere a pioggia nel cestino come una foglia che cade dall'albero guarda qui guarda e vai caciotti cuccaro avete una visita in sala colloquio